Prego. Partiti. In vantaggio si porta gradatamente Sadova Reissed nei confronti di Duke Delrose. Segue Bridge Poseidon con all'esterno Nick Sadov, quindi Deo Volente con in coda contigo. Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con Sadova Reissed che prosegue in vantaggio. In seconda posizione sempre Duke Delrose a precedere Bridge Poseidon, quindi Nick Sadov contigo con all'interno Deo Volente. Non cambiano le posizioni lungo la curva e si mantiene sempre in vantaggio Sadova Reissed nei confronti di Duke Delrose. In terza posizione all'interno Bridge Poseidon con all'argo Nick Sadov, poi Deo Volente e contigo. Siamo ora in retta di arrivo con Sadova Reissed che sta allungando gradatamente nei confronti di Duke Delrose, Cala, Bridge Poseidon e a centro pista si propone Nick Sadov. Siamo a 400 dal palo con Sadova Reissed attaccata all'esterno da Duke Delrose che si trascina all'esterno ancora Nick Sadov. Duke Delrose è molto incisivo nell'attacco a Sadova Reissed che lungo la corda si sta difendendo dall'attacco dell'avversario. Nel tratto finale Sadova Reissed reagisce bene al serrate di Duke Delrose e sul palo si impone Sadova Reissed su Duke Delrose, poi Nick Sadov al terzo posto. Rivediamo le immagini al palo traguardo del numero 6 Sadova Reissed che si è imposta nei confronti del numero 3 Duke Delrose, al terzo posto il 5 di Nick Sadov, quindi 6-3-5 il probabile ed ufficioso arrivo della terza di Napoli.